edison ci sorprende ancora con energy control il primo servizio che ti permette finalmente di tenere sotto controllo in tempo reale i tuoi consumi di elettricità e la tua spesa in euro ovunque ti trovi richiedi subito il tuo energy control vai su edisoncasa.it o chiama l'800 14 14 14 bisogna risparmiare